Sono le 18-10 del 12 aprile 2015 Stiamo mantenendo una rotta più orzata rispetto ad altri perché vorremmo passare al sud di Ponza perché è previsto lì una maggiore pressione per stanotte mentre sotto costa calerà Passiamo Sto andando a una riazione Ecco qui C'è purtroppo un'onda che dà fastidio Grazie a tutti Grazie a tutti